Senza parole Ameria Radio presenta Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini Cari amici imprenditori, oggi faremo una riflessione sull'imprenditore e le scelte che deve prendere costantemente durante la gestione della sua azienda. I vari tipi di scelte dipendono sempre più spesso dalla situazione in cui si trova lo stesso imprenditore. Ci sono delle scelte molto oggettive e molto obiettive che in alcuni casi vengono prese e in altri casi no. Per definire la scelta, l'individuazione di una strada da intraprendere, concorrono vari tipi di impostazioni, ci sono tante variabili. Non ultimo, come ho avuto un modo di raccontare in altra occasione, l'età dell'imprenditore. Perché? Perché quando si è più giovani, indubbiamente, questa ovviamente è una chiave assolutamente oggettiva, non vuole essere diciamo dogmatica, no? Però quando si è giovani si ha una visione un pochino più più larga, meno contaminata dalle esperienze che nel frattempo si sono avute. Quindi la scelta probabilmente è una scelta forse meno ragionata, no? Ma più di impatto. Quando si è più avanti con l'età, l'imprenditore nella individuazione della scelta non può non tenere conto di tutte le esperienzialità che ha avuto, sia quelle positive che quelle meno positive, ovviamente. E quindi la scelta è un pochino più diretta, è un pochino più mirata. Qual è meglio? Arriva nella seconda, ma bisogna dire che nella prima ci sono pregi e difetti come del resto nella seconda. Partiamo dalla seconda, la seconda probabilmente essendo forgiata da una esperienzialità ma che è maturata in altri contesti può correre il rischio di essere meno rischiosa perché comunque sia, tiene conto di aspetti e di valutazioni che si sono già fatte. Essendo però meno rischiosa, potrebbe rischiare di essere meno originale, no? Perché probabilmente moltissimi possono arrivare alle stesse conclusioni e quindi non ci sono sfumatori, non ci sono sfaccettatori laterali che possono veramente fare la differenza. Quindi la scelta di una persona più matura, di un imprenditore più matura, mi ripeto, corre il rischio di essere più distillata, perché tiene conto di tante esperienze vissute, ma meno originale. La scelta che viene fatta da un giovane, in qualche modo, proprio perché non è forgiata da una esperienzialità, potrebbe essere una scelta più impetuosa, più trasversale, che ha magari il non pregio di poter essere più rischiosa, perché magari non tiene conto di alcuni aspetti, ma ha anche l'estrema qualità di essere meno seguita, di poter essere più originale, perché magari si intraprende una strada, un percorso che altri non hanno fatto. Quindi insomma, come vedete, le soluzioni ce ne sono tante. Vale la pena però di avere a portata di mano la consapevolezza di quello che si sta facendo, perché non è né giusta una, né giusta l'altra. Sarà poi gli eventi a poter considerare vincente l'una o l'altra soluzione. Una cosa è certa, quando si va avanti bisogna avere sempre il coraggio di poter valutare le proprie scelte, avere la possibilità di non abbandonare le proprie scelte e magari anche in corso d'opera provare a inserire il piano B, il piano C e il piano D, intendendo per tale meccanismi correttivi che, fermarestando il filone originario della scelta di antepresa, si possa comunque graduare, misurare, tarare, riorientare alla luce di quello che si trova per strada. Questo è un atteggiamento, credo, interessante, un atteggiamento importante, una metodologia che potrebbe dare soluzioni, però ritorno a dire, e quindi c'è un ritorno da capo, che non c'è una scelta giusta e una scelta sbagliata, altrimenti tutti quanti avrebbero intrapreso la prima e ci sarebbe stata a livello di imprese una noia mortale. Bene, allora per oggi è tutto, ritorneremo comunque sulla tipologia di scelte, facendo qualche riflessione antropolica, intendendo per tale qualche riflessione sull'elemento umano dell'imprenditore. La tecnicalità è una cosa sicuramente importante, la professione, il mestiere, ma c'è poi l'elemento umano, chi deve scegliere e chi deve individuare in una strada è sempre una persona. Bene, per oggi è tutto, intanto vi auguro un buon pranzo, un carissimo saluto da Ameria Radio e alla prossima occasione. Ameria Radio ha presentato Parole di Impresa, con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Senza Parole E vabbè così